Buonasera, buonasera! Grazie mille, allora stasera avremo due ospiti eccezionali, Lorella Cuccarini e Giovanni Allevi che ci regalerà... Sono molto emozionata, ci regalerà un'esibizione straordinaria, sono sicura, ma prima Virginia ha un'importantissima comunicazione da dare e mi raccomando chiara come ieri. Vai Virgi. Anche la campania dal 16 dicembre passerà dalla digitale terrestre, meglio tardi e mai. La set è già presente sul digitale terrestre, sul QFOT e sul 100FOT. Per continuare qua a vedere la QFOT dovrete munirvi di un decoder digitale terrestre o di un televisore integrato. Pagando, non è che ve lo regalano. Potete sintonizzare sia manualmente sul canale 48 per dire, no? La libertà. Potrebbe essere necessario effettuare volte la sintonizzata, la sintonizzata, la sintonizzata, la sintonizzata... Sì, bene. Se avete problemi di ricezione, non voi, eh? Allora TV parlo. Allora chiamate il 8-4-0-0-0-0-9-7-7 da rete fissa oppure 0-6-7-2-2-8-7-2-9-6. Si è stata molto chiara, io ti ringrazio, grazie mille, grazie comunque... No, è ottimo averti qui, veramente, perché mi aiuti molto, sei molto chiara. Sì, 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 sì. Bene. Allora, andiamo avanti perché io vorrei a questo punto introdurre il nostro primo ospite. Prego. Sì, bene. Il prossimo ospite è una showgirl. Patrite Pantante, un'utrice TV. Ma se provate a chiederle di fare due gestari, di stare da freddo... Dica, ci riesce. Cosa? No. Di fare due spade a freddo, non ci riesce. No! Per dire, puoi fare tutte le scuole che vuoi. Martescia, è un talento naturale. Capito? Non viene così, così, impostato e chiesto a freddo. Bene. Il nostro ospite detiene, 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 detiene il record di presenza in TV. Rampatore! In un solo giorno. Capito? Eh sì, non era chiaro, proprio? Difficile. È difficile. E non torno. Bene, pin dovinello. Pin dovinello. Pin dovinello. Lei cantava Dammi la Didi di 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 Mi sei incantata. Ti sei incantata? No, era di Tornello. lei è la più amata dagli italiani io sto sul culo anche dal mio cane voi ridete bene o così eh? ho problemi bene signore e signori è con noi l'orella Zuccarini